Musica Accordo DAC e la società SACE per sostenere lo sviluppo delle PMI campane dell'aerospazio Minibond, un progetto di 350 milioni per sostenere l'export delle aziende e un bando pubblico per riaprire l'accesso al DAC alle PMI campane. Sono queste alcune delle importanti novità emerse nel corso della presentazione a Villa Pignatelli dell'Accordo per la Competitività, sottoscritta tra il DAC, il distretto aerospaziale campane e il gruppo SACE per approntare un moderno e innovativo strumento a sostegno delle PMI campane dell'aerospazio e difesa. L'evento si è svolto a Napoli a Villa Pignatelli e oltre agli interventi del presidente del DAC e di rappresentanti del gruppo finanziario, hanno partecipato alla discussione della mattinata Paolo Graziano di Magnaghi e Amedeo Fogliano di Tecnamba e i presidenti dei consorsi regionali del comparto aerospaziale ALI, Caltech, SHEIN e SAM. Un modello innovativo per ottimizzare e semplificare l'accesso alle aziende, ai prodotti e ai servizi assicurativi o finanziari. E questa è la sindesi di... Io ho sempre detto che l'unica cosa che non manca nel mondo e anche in Italia sono i soldi. Metterli nel momento giusto, al posto giusto e, come dico io, anche in quei progetti giusti. L'aerospazio, a differenza di tanti altri settori, gode di una salute diversa da quella che è un po' l'economia generale. Soprattutto per quelle aziende che da sempre hanno puntato sull'export. E quindi chi ha un prodotto proprio e riesce ad andare sul mercato internazionale, al di là di quello che è lo stato di salute del nostro paese, si rende conto che c'è un problema di crescita a cui non si riesce a far fronte. ...efficare l'accesso alle aziende, ai prodotti e ai servizi assicurativi o finanziari. E questa è la sindesi degli strumenti messi a disposizione dal gruppo SACE, specializzata proprio nel sostegno all'export delle aziende e ai finanziamenti per l'internazionalizzazione. Una serie di provvedimenti come forme di assicurazione delle vendite dal rischio di mancato pacamento, protezione degli investimenti esteri dai rischi politici, garanzie fiduciarie, per commesse e per la liquidazione dei crediti divantati con le controparti, sia essi italiane e estere. Innanzitutto il distretto dell'aerospazio, perché è un'eccellenza tecnologica a livello internazionale, in crescita e che esprimono una domanda estremamente interessante, quindi possono offrire un'alternativa e un'occasione di crescita anche in questa congiuntura sfavorevole. ...di divantati con le controparti, sia essi italiane e estere. Sono un po' queste il contesto delle offerte e dei servizi che la società SACE offre alle aziende campane ormai da diversi anni nell'operare sul territorio a supporto delle imprese e dell'industria regionale. L'accordo di collaborazione tra SACE e il DAC prevede inoltre il rafforzamento dei canali di comunicazione e dello scambio di informazione, oltre ad occasioni di formazione per le aziende associate e iniziative commerciali mirate al beneficio delle imprese e ai centri di ricerche e alle università che fanno parte integrante del DAC. SACE scommette sul DAC per il bisogno di creare effettivamente quel network tra le banche, lo strumento che ci viene proposto, la capacità dell'aggregazione, tipo quella che rappresentiamo, del DAC e dei consorsi che partecipano al DAC che siano in grado di lavorare in questa direzione. Quindi c'è bisogno di rodare questo sistema e di arrivare fra un anno a presentarlo come un sistema che ha prodotto nuovi progetti, nuove attività, nuovi finanziamenti. Stante la congiuntura sfavorevole, è un modello vincente, capace di progettare la soluzione competitiva a livello nazionale e internazionale, ha dichiarato nel suo intervento Simonetta Grig, direttore della Rete Italia di SACE. La formula aggregativa del DAC, inoltre, garantisce forti e intense relazioni commerciali con l'estero, grandi investimenti e una crescita continua di fatturato con l'estero. L'accordo di oggi, ha continuato a grinda il suo intervento, si inserisce in questa logica. Vogliamo diffondere l'utilizzo di strumenti assicurativi e finanziari che possono fare la differenza, al fine di garantire alle aziende nuove linee finanziarie e per proteggere i crediti commerciali, garantendo loro una crescita in totale sicurezza. Il distretto aerospaziale della Campania, invece, ha rilanciato il presidente e il professor Luigi Garrini, è nato per creare la più forte rete di cooperazione sul territorio per sostenere la competitività della filiera aerospaziale regionale. Il distretto, ha continuato a Garrini, ha già avviato un'attività riferita alla ricerca, allo sviluppo tecnologico a sostegno di programmi e alle attività di formazione con il polo formativo NEA e alla fondazione FACA. Il tema dei ritardi della realizzazione dell'infrastruttura aeroportuale è stato posto dal professor Carrino nel suo intervento, che ha rilevato che se il governo ha definito un quadro chiaro per il trasporto civile e il ruolo degli aeroporti di Capodine e Ponte Cagnano, resta ancora irrisolta in sede regionale l'annosa vicenda di attrezzare lo scallo di capo per le attività industriali dell'azienda dell'Aviazione Generale e soprattutto nella prospettiva di portare in Campania la linea di volo del nuovo velivolo regionale di Alenia a Ermacchi. L'accordo con SACE consentirà inoltre di creare le migliori condizioni di rapporto con il sistema della finanza, ha dichiarato Carrino. Il DAC ha individuato un partner di elevatissime qualità per sperimentare strumenti finanziari innovativi per le imprese aderente al distretto e ha concluso Carrino per offrire un servizio sia in termini di supporto alla ricerca sia per le attività di internazionalizzazione che le aziende avranno la possibilità di mettere in campo nel corso dei prossimi anni.